Allora, dovevamo andare via in tenda, però piove e quindi abbiamo optato all'ultimo secondo per una sistemazione più tranquilla Però comunque vi porteremo a fare dei giri pazzeschi e domattina tanta roba, quindi aspettate e continuate a guardare il video C'è che poi partiamo, è un modo di dire, perché ovviamente è sempre in ritardo Sì, è sempre lui, è sempre lui, quello che sta entrando adesso Possiamo partire? Siamo pronti? Allora, ovviamente mi ero dimenticato di continuare il vlog, ma siamo arrivati, siamo arrivati a teglio Fuori, come potete vedere, è strepitoso Infatti ora scappiamo, andiamo su e facciamo delle riprese pazzesche E quindi, 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 continuate a seguirmi E quindi, quindi, continuate a seguirmi Ciao ragazzi, è un momento molto importante E il viaggio lo finisce qui Non riuscirò mai da questo piatto di pizza, ok ragazzi Facciamo questo Guardate quanto burro c'è 8 kg più lungi È troppo buono ragazzi Dovete sapere che teglio è la patria del pizzocchero Quindi qua sono ufficiali Qui ci vedete venire E se ci venite, vi tagliate Panna cotta Amici E dopo Tutti a nanna Ci avrai anche da far volare il drone su Che c'è tremendo silenzio Poi metti in caso che esce uno qua dalla baita È messa a caglia di botte Questa atmosfera Tipo da Pennsylvania In Pennsylvania non ci sono mai stato Però me la immagino così L'atmosfera è pazzesca Ed è incredibile come in un anno Sono cambiato tantissime cose E soprattutto è incredibile quanto sono profondo A 6 di mattina Ma cicco, no cicco Mi sono svegliato Ok facciamo No, se mi appareceo Poi fermi Cioè lo facciamo proprio come se fosse uno Due Non, 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 non Grazie a tutti.